Buongiorno a tutti, ben ritornati da vostro andro in crono, sono io KaiWatchPuniPuni Nonostante l'evento sia appena cominciato, sicuramente voi starete guardando questo video una settimana dopo all'inizio Quindi direi di non perdere tempo e andare subito a vedere se la slot Kai, quella speciale per questo evento, mi dà qualche robina succulenta Anche perché lo scorso, davvero, non ho appreso nulla Shadow Side Gacha, fino al 15 giugno E speriamo bene, vai, ecco la crancata da 10 sfere, speriamo che sia buona Ho accumulato un po' di punti giocando all'evento in meno di un giorno addirittura Quindi insomma, ho fatto una bella giocata, solo 2 oro Eh, già ne siamo bene proprio, proprio succulenta Ehi, attenzione, però questa è nuova Whisper2040, ottimo, va bene, questo è di Shadow Side Non so quali Yo-Kai sinceramente aumentano la probabilità La probabilità, aumentano i punti che fai O cose del genere, perché sinceramente C'è un ragazzo su Discord, che si chiama Lux Che praticamente lui pubblica tutto quanto quello che ci sta da fare nelle missioni Li Yo-Kai che ti danno più bonus, più cose così Però non ha ancora pubblicato nulla, quindi aspettiamo Tutti quanti stiamo aspettando impazientemente che Lux pubblichi qualcosina In modo da essere più tranquilli su quello che c'è da fare, sulle missioni Le traduce lui a questo punto, l'ho scoperto proprio ieri L'ho scoperto ieri, quindi neanche mi ci preoccupo più a tradurre per conto mio Anche se bene o male capisco quello che c'è da fare, oramai Beh, ho trovato anche Robonian, c'è Robonian 00 qui, attenzione Questo è il nuovo Chi sei tu? Weila! Ah, Sforbi Fuoco, dovrebbe essere questo? Doragon, oh, Doragon, trago di fuoco Non lo so, il simbolo, il kanji, io ce lo conosco pochissimo il kanji Purtroppo è una pecca Ma, ehm, dovrebbe essere Sforbi Fuoco se non sbaglio in italiano Eccolo, Robonian 00, rango S, ottimo O meglio, questa è la versione Shadow di Robonian 00 Sì, Double O, comunque sia Double O significa 00, come la farina, no? La farina 00 Dai, vediamo un po' Oh, l'icona! Ah, perfetto! Perfetto, questa si prende con l'evento Cioè, con l'evento, completando un evento del gioco Però io l'ho presa così Un pass Per chi è sto pass? Non è per Kirakoma No, dai Ma me lo fai così, me lo fai Uffa E va bene, e va bene Andiamo a vedere questo pass Per cosa è Ma era Kirakoma, no? Ah, questo è nuovo È il pass del nuovo evento Andiamo a vedere chi è, allora Questo è un nuovo evento Non è ok che non so chi è, però Eccolo qua Oh! Non ce la posso fare Mangia gli akisoba No, eh Zarusoba? Come si chiama? Eh, va bene Proviamoci Proviamo a prendere questo nuovo yokai L'avevo letto il nome Gentle Kelton Kelton No, non ricordo come si chiama L'avevo letto di sfuggita Su Su Reddit comunque sia Non Non è che mi sono messo a tradurlo io Anche perché Il kanji Ci scommatto poco col kanji Mi dà molto fastidio il kanji Alcune parole Al resto Bene o male Le parole più comuni le so Tipo montagna Demone Ombra Iami No, quelle cose così Sì, ho detto iami perché non mi ricordo come si dice in italiano Oscurità, ecco Oscurità è inteso come posto Non come Non come colore scuro Capiamoci Stavo attaccando a caso, no? Dico, magari questo è fortino Invece no Ma lo carico l'Energy Max Carico l'Energy Max E poi vado in Fever Almeno posso fare più danni Faccio più punti Vediamo un po' Quanto ci manca a caricarlo Se sbaglio non ho caricato un'altra volta l'Energy Max di Shogunyan Non so, mi sono un attimo un cespicato Però Insomma, ci stiamo, dai, ci stiamo Amico, mi accontento Mi accontento facile Non è che Eccolo Ehi, e vai SS, ottimo Wuh, tra Kirakome Questo è andato benissimo Mi dispiace un po' per Edison Che ci ho combattuto due volte Ma Ehi Così è Va così Inoltre ho usato queste due monete di selezione SS E SS+, Per prendere due yokai Che alla fine sono andati a gusti Ho preso Kaminaraz Goro E anche Kaksei M Ovvero Lord M Risvegliato Grazie a tutti Grazie a tutti